Dopo la rottura un controordine che riporta la trattativa su un binario di collaborazione. È stato infatti raggiunto al tavolo del MIMIT l'accordo per l'avvertenza di Varsila con la proroga di sei mesi del contratto di solidarietà per i lavoratori. Martedì l'incontro tra il ministro Adolfo Urso e il numero due del gruppo finlandese Roger Holm. Oggi l'accordo sullo stesso testo bocciato il 9 gennaio con un incontro che ha riunito da remoto il ministro Urso, il settore segretario con delega alle crisi di impresa Fausta Bergamotto, Varsila alla regione Friuli Venezia Giulia e poi Confindustria ai sindacati. Varsila però potrà iniziare il trasferimento di asset e macchinari dopo un accordo con i sindacati e i soggetti cosiddetti reindustrializzatori. Una frase che dovrà ora essere riempita di contenuti in quanto sulla vertenza pende anche il possibile accordo con Ansaldo sul futuro della produzione nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Il prossimo 22 gennaio è convocato il tavolo per l'accordo di programma in quale sono invitati proprio i possibili nuovi attori della reindustrializzazione delle aree che verranno lasciate da Varsila. Un bene che si possa contare su altri sei mesi di solidarietà, commenta la deputata del PD Deborah Serracchiani, ma l'intesa raggiunta al Mimit, aggiunge, riporta la situazione all'anno scorso, non la fa progredire come pure era nelle attese. Il governo conclude ci deve mettere le mani con un impegno e concretezza che finora, dice, sono mancati. Dal gruppo di Forza Italia e Regione arriva invece un applauso alla prudente trattativa vista la delicatezza del momento.